No raga, oggi è una domenica triste, eh lo so raga, lo so. Ma in ogni caso, bentornati al Noisy Podcast. Oggi è la decima e ultima puntata della stagione, per quello che mi spiace in realtà. Ragazzi, sta arrivando la primavera, cioè ormai le giornate sono anche un pochino più lunghe, si preferisce lo spritz piuttosto di ascoltare un podcast, secondo me. Quindi, pausa estiva del podcast, ci rivedremo sicuramente, probabilmente da settembre, con la stagione 2. Noi intanto ci porteremo avanti, intervistando comunque un po' di personaggi, sempre nel mondo moto. Però oggi, dedichiamo la puntata a Simone Zignoli. Chi è Simone Zignoli? Lo conoscerete molto presto, ve lo anticipo già, è una iena. Avete presente quelle di Mediaset? Le iene, esatto. Personaggio veramente pazzesco, perché è ricco di sfumature. Lo conosceremo meglio, ha un sacco di aneddoti da raccontarvi, e non perderei altro tempo. In questo momento di pausa, colgo l'occasione per ringraziarvi per aver ascoltato tutte le puntate, per aver interagito un sacco, sono mega contento, sia su YouTube, quindi chi l'ha guardato, che anche su Spotify. Sì, abbiamo il canale Spotify, mi raccomando, se siete in macchina e avete solo ascoltarlo, potete farlo. Vi lascio comunque qua sotto in descrizione tutti i link. Un abbraccio da Noisy e buon ascolto. Bella tuvi ragazzi e bentornati al Noisy Podcast. Qui con noi, oggi una puntata speciale, come sempre, c'è Simone Zignoli. Benvenuto, benvenuto. Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Come stai? Bene, bene. Sempre indaffarato, come una trattola a giri per il tutto in Nord Italia? Sempre, non solo. Però principalmente adesso ho messo radici a Milano. Ah, hai messo radici. Mancava Tarzan in città. Esatto, e poi sta andando a scuvare con la lente di ingrandimento varie cosine di Milano. Ma ci arriviamo. Simone Zignoli, perché sei qua? Perché intanto sei un appassionato di motori, vero? Sì, appassionato di motori, poi non avevo niente da fare oggi, quindi ho detto... Stiamo a trovare Luca per un caffettino. Scrocco un caffè e registro un podcast. Vedo una mensola accessoriata là dietro. Di caffè, di bottiglie di caffè. Bottiglie di caffè. Non l'abbiamo ancora fatto vedere cosa c'è dietro la videocamera. Un giorno lo faremo. Fatelo vedere, fatelo vedere. Nella seconda stagione. In ogni caso, ragazzi, Simone Zignoli, io l'ho conosciuto, ti ho conosciuto, posso dirlo? Sì. Prima dei social, addirittura in TV. E molti di voi, molti di voi che ci stanno guardando, molti di loro, probabilmente avranno vissuto questa stessa cosa, no? Perché ti ho visto alle Iene. Tu sei una Iena, si può dire? No, non sono una Iena, sono stato ospite delle Iene. Ospite delle Iene. Amico di una Iena storica. Matteo Viviani, che ormai è uno degli elementi, è una delle parti d'arredo della redazione delle Iene. E dall'amicizia nata con Matteo Viviani, mi hanno deciso di portare un po' agli occhi dello spettatore questa mia visione di viaggio, un po' quella che ho maturato negli anni stando in Sud America in sera alla moto. Ma infatti mi racconti un po' il tuo percorso. Prima di questo, aspetta, vi siete conosciuti perché vi piacciono le moto? C'è una cosa in comune? È stata la moto. La moto è stato il comune denominatore che ci ha messo in contatto perché lui doveva partire per un viaggio benefico. Ok. Stava organizzando un po' tutto quanto e un nostro altro amico in comune ci ha messo in contatto e gli ha detto guarda Matteo, questo è il numero di Simone, sentilo, che magari ti dà una mano all'organizzarlo. Perché tu lì avevi già fatto qualcosa di beneficio, cioè partivi da una base di moto viaggiatore o facevi già qualche altro? Da moto viaggiatore perché poi ero appena rientrato dai miei anni trascorsi in Latino America quindi avevo un po' un background, ho scappato di casa. Perché Sud America? Sud America è venuto così per caso perché io avevo il mio lavoro, come tanti, lavoravo nell'edilizia con posa pavimenti in legno, perché? Ah ok, io devo laminare un parco. Quando vuoi. Quando vuoi arrivo io. Poi così dalla sera alla mattina ho detto c'è bisogno di dare una svolta, di cambiare. Quindi avevo questa mia attività, più avevo delle quote in un ristorante, però vabbè il ristorante era più un gioco diciamo. Vedi che tu fai un sacco di cose, lo sapevo perché... Hai tantissime sumature, finisci di raccontare. Sono come la scatola di Jumanji. Se con Simone non vuoi stare, il 5 e il 6 mi devi tirare. E praticamente ho detto se non lo faccio adesso non lo faccio più. Ok. Stiamo parlando del 2014. Beh comunque non troppo tempo. Dieci anni fa, però dieci anni fa non era tanto come adesso che vedo un sacco di travel blogger, tutti i viaggiatori, tutti che partono. Invece ho fatto una scelta di vita, ho lasciato tutto e ho detto butto la moto su una nave, che è stato un cinema anche lì, trovare la nave, la cassa e dove metterla e fai e disfai. Con te lo sei partito? La moto è partita da Genova. No, ma che moto? Allora, moto vabbè, sono partito da un BMW 1200 Adventure, 2009 Bialbero, che l'ho preso pochi giorni prima da un ragazzo che lo vendeva, un mio vicino di casa. Una pazzia praticamente, cioè raccontarla è una pazzia. Ho trovato una moto, mi serviva una moto utile. Non sapevi neanche come andasse e ho detto ma sì. Non sapevo andare in moto, non sapevo. Ma hai fatto il meno tagliando prima di partire. No, perfetto. Allora questa ragazza aveva questa moto, non la usava, ha messa lì in garage, ci siamo visti, aveva già su anche le borse laterali, tutto quanto. Ho detto vabbè, fa il caso mio. Detto in francese mi ha sempre fatto gagare. Non so, nel mio immaginario non mi ha dato sempre l'idea di sicurezza nell'avventura, però ho detto voglio proprio fare un test. Beh, cazzo, in realtà è un'ottima moto per viaggiare. Però sai tu, qua, però se sei in mezzo al deserto di Atacama, non sono le moto, e l'elettronica ti lascia. Oh cacchio. Quindi il 2009 era il bialbero, ho detto vabbè proviamo, elettronica sì, c'hai l'ESA dietro, non è che ci fosse l'elettronica delle adventure attuali. Ho detto proviamo, proviamo a portarla là. Ho messo in una cassa, inizio a contattare lo spedizioniere, perché poi ero le prime armi. Non sapevo che ci fossero società che fanno trasporto moto. Io sono andato a una società cargo, che non aveva mai trasportato una moto, messa in una cassa, buttata dentro. Inizio alle banane. E quando l'hai aperta in Sud America era sulla sella e il manubrio. Al contrario. Era rovesciata. Cinghiata al contrario. Messa sulla nave a Genova e via per Buenos Aires. Madonna. Pensa a sta povera moto che era là tranquilla, in garage. Usata magari da un normalissimo utente. Bravissimo ragazzo. Nella pianura patana. C'è il ragazzo modello. Che faceva il tagliando, che andava in BMW. Pensa dalle orecchie l'hai spedita. Ma guarda, era una moto che aveva già qualche annetto. Era un 2009, l'ho presa in 2014, ma sembrava usata da due giorni. Poveretto. Vabbè è andato bene però, no? Ti ha affiancato bene? Ma sì, dai. Bene o male, me la sono sempre... Ti ha fatto cambiare un po' idea su queste BMW o no? No. No. Allora, gradatamente nel corso del viaggio... Quanto sei stato via? Con i chilometri, quattro anni quasi... Ma come continuativi? Tornato un paio di volte, toccata e fuga. Per prendere i pezzi. Per prendere i pezzi. Gradatamente l'ho modificata a mio piacimento. Perché ero in direzione del Salario Juni. Ho pensato bene di impiastrarmi in un bel sabbione. Sai quando sei stanco che dici... Vabbè, mancano 20 chilometri. Quindi scollego il cervello, che già di solito è scollegato. Vai. Poi la sabbia e la odio. Partito l'ESA, scoppiato, voglio apertutto, pezzi in giro e tutto. Cosa faccio adesso? In mezzo a nulla? No, mancavano 20 chilometri a Uyuni, che è in Bolivia, dove c'è il famoso Salar di Uyuni. Però lì cos'è che trovo? L'ESA non penso. Di un GS 1002 Bialbero del 2000. Ho provato a chiedere agli Eymar e agli Inca, dove fosse il concessionario. Ascolta Miming, ecco Miming. E allora da lì ho detto, vabbè, cerchiamo di rapperciarla in milanese, in qualche modo. Quindi ho messo degli spessori di polistirolo tra le molle. E anche la dita arrangia, è chiaro. Mi sono arrangiato andando in un sfascia carrozze barra di scarica. A recuperare dei pezzi. Il meccanico era fighissimo, perché c'era una scimmia proprio sulla spalla. Anche la scimmia lavorava. La scimmia vera. E da lì siamo andati a Cochabamba, fino a Cochabamba, che è già un pelino più grandina. E ho detto, qualcosa qua troverò. Sono rimasto due settimane a Cochabamba, aspettare il pezzo che arrivasse per via aerea. Ma com'è che facevi mantenerti, scusami, durante questi quattro anni? Prima di partire mi sono detto, stanzi un budget, dentro il quale... Ma io all'inizio ho calcolato 8-10 all'anno, 10.000 euro all'anno, tra costi moto e costi vita. E ho detto, bene o male, mi sono un po'... E li hai rispettati perché... No, li ho anche abbassati. Perché io penso 10, che non siano così tanti per un viaggio così lungo così... All'anno, quindi 40k? No, 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 10 all'anno, 10k. Esatto, da 4 anni in 40k. 40 in 4 anni. Allora io ho detto, ma faccio una media così a spanne, spannometrica, basandomi su un tenore di vita medio-basso. È chiaro. Perché sai, tanti... Non conoscevo nessuna azienda, nessuna partner, sai, bene o male, tanti adesso sì. Sono cambiati anche un po' i tempi, 10 anni. Però io ho detto, viaggio, mi metto un polmone, un portafoglio da parte, e poi se trovo da lavorare strada facendo, mi adatto e faccio. Tipo l'ESA, è scoppiato a Cocciabamba. Non so se hai mai sentito Cocciabamba. No, è la prima volta. Esce la scritta in Scarface. Quando vedi in Scarface esce il Cocciabamba, dove Tony Montana va la prima volta a comprare... Ah, quelli sono i lavoretti. No, 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 no. In realtà ha riempito serbatoi. E lì ho trovato questa officina meccanica, un appassionato, che bene o male le mani in qualche moto ce le aveva messe, perché di là trovi quelli bravi e quelli naif che si adattano. È chiaro. Gli ho dato una mano in officina e in cambio mi sono comprato... I pezzi. Questo pezzo usato che arrivava dagli Stati Uniti. Si è messo due settimane a arrivare, quindi vai da lui in officina. Ecco i ritmi loro, è bello, perché poi la mattina, quando ci vediamo la mattina? Magnana alla mannana. Magnana alla mannana, è uno spazio temporale che va dal sorgere del sole al pranzo. Quindi magari arrivai lì alle dieci, lui arrivava a mezzogiorno e dopo mezz'ora andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. A mezzogiorno mangi, ti alza le quattro da tavola. Per quello Lisa l'hai montato in due settimane, perché... In realtà è arrivato subito. Dieci minuti, dieci minuti, mezzo giro di vita alla volta. Poco alla volta, montato, però poi quando è arrivato mi sono detto, ma se me lo fanno un'altra volta? Allora, ho rivenduto a lui l'ESA, abbiamo preso un ammortizzatore da una moto qualsiasi. Certo, basic, analogico. Basic, eh, montato e da lì non mi ha più abbandonato. Chiaro. Ma ce l'ha ancora questa moto? No. Allora, la moto... È diventato un portachiali da schiacciare. È rimasta là. La moto è morta. No. No, è morta. La moto è arrivata in Colombia. Io poi nel fine 2018 sono rientrato dalla Colombia. Ok. E la moto è rimasta a Cali anche perché ho fatto un incidente bello, secco, in Cile e già il telaio, se tu la guardavi, il BMW era... Ma da solo o contro qualcuno? Veniva dal lato opposto, su questa strada sterrata che costeggia il lago General Carrera, arriva una jeep della forestale. Ah. La jeep della forestale è che all'ultimo momento la jeep della forestale scoda, gli scappa via, io mi vedo il retrotreno del pick-up aprirsi a ventaglio. E cosa faccio? Cioè, i tre secondi... Me li sto immaginando. Do di gas su sto ghiaione, l'ho preso con la borsa laterale sinistra, gli ho staccato paraurti portiera e parafango e paraurti posteriore, mi è esploso e mi sono trovato per terra che guardavo il cielo e pensavo di essere morto. E tu? Perché io sono uscito volando frontalmente, ho preso una smaronata nel manubrio. Vabbè, però solo quello? Sì, quello, ginocchio un po' così, un po' di botte. Ero lì che guardavo per aria e pensavo di essere nell'aldilà. E lì hai pensato magari... Loro sono scesi dalla macchina, caricano i pezzi nel pick-up, staccano la targa e scappano. Ma... Ah, così? Vabbè, ci sta, me lo aspetto, sì. Ci sta. Lo metto in conto. È un po' così. No, vabbè, è così. Ho poi indagato... È già tanto che non gli hanno dato due colpi. E hanno preso anche lui nel pick-up. Ho indagato un po' con la polizia, la PDI, con la cilena, e chiedi, fai domande, tutto, sai, corpo forestale, magari guidava uno che si era fatto prima all'aperitivo, o guidava l'amico che non è tenuto a guidare, e quindi cosa fanno? Te ne vai. Ciao. E si era fermato, mi ricordo, a dare un aiuto, a raccattare un po' di pezzi, un giapponese che girava il mondo in bicicletta. Oh, perfetto. C'è sempre un giapponese. Un samurai. Immagino la comunicazione del giapponese nel Sud America. Lui in bicicletta, si ferma, mi aiuto a tirare, perché poi si sono aperte le valigie spaccate, e tutto quanto. Ma che disastro. Ma non hai pensato chi te l'ha fatto fare, scusami, un secondino. Ma è lì il bello. Cioè, tu devi partire senza una meta. Se io parto col viaggio già pianificato, logicamente, adesso per non farmi mandare a fanculo da chi ti ascolta, io mi ero preso uno spazio temporale importante, un cambio di vita. Certo. Però mi piace non pianificare, perché il bello è... Oh, no, beh, chiaro. Il bello è, sai, dietro l'angolo c'è sempre un'avventura, oppure gli estranei che contri lungo il cammino ti possono cambiare. Sì, sì, sì. Anch'io faccio così. Però tu sei andato in Sardegna, senza nemmeno impiegare, perché hai due giorni. È diverso. Sono andato in Tunisia così. Lui avrà fatto Porto Rotondo in solitare. No, sono andato in Tunisia così, è un po' l'avventura della selvaggia. E già mi è bastato. Cioè, bello. Sono anche abbastanza organizzate rispetto a quello che mi stai raccontando tu, che veramente mi sembra molto più assurdo. È un pochino più assurdo. Non lo organizzi. Vivi un giorno con l'altro. Ma qual è la scintilla che ti ha fatto scattare questa voglia di partire e lasciare tutto? Cazzo cambio vita. Perché? Perché? Era un momento un po' particolare. guardi come girava un po' il mondo, l'economia. Tanta gente ha sempre paura a fare un passo così. Diciamo che io quella paura non l'ho mai avuta, anzi, ma sempre accompagnato un po' l'incoscienza. Le fai anche da incosciente, perché non è che l'ho fatto a vent'anni. L'ho fatto a trentasette, trentasette, trentotto. Suonati. Perché questo fattore si è ritrovato anche in altre occasioni, in quelle dopo. Ma è la base di ogni tua attività. È la base di ogni tua attività. Un po' la visione e dire non è che voglio fare il fenomeno che vuole farla fuori dal vasino. No, no, ma lo fai. È proprio uno stimolo mentale di dire io mi pongo un obiettivo e devo arrivare a quell'obiettivo. Però senza sapere cosa ci sarà nel mezzo. Cioè, affrontando tutto quello che c'è nel mezzo. Non pianificando quello che c'è nel mezzo. Tipo, io qua cosa ho pianificato? La moto, sì, deve arrivare a Buenos Aires. Fine. Per sdoganarla? Boh, vediamo a Buenos Aires. 15 giorni per sdoganare la moto. Al momento ci ho messo più a sdoganare la moto che a stare in Sud America. Sì. Sì, perché un giorno vai a ritirarla. Eh, signora, aiuia, sta piovendo. Ah, vabbè. Piove, non si può. Il giorno dopo, ah, no, signor, vamo serrando alla Cinco. Eh, bene, quindi c'è il classico. Stasera. River, Bocca. Quindi non si chiudono per due giorni perché c'è River, Bocca. L'altro giorno non c'è più la cassa. È finita la cassa. Sì, sì, insomma. Mi portano in questo magazzino 27.000 container marchiati Cina. All'opposto. E quindi, inizi così, all'inizio tentano sempre magari di trapanarti come... Per sdoganarla servono 10.000 dollari. No, 1.200 dollari. Poi il giorno dopo 500, poi 300, poi con 120 dollari. E dopo questa esperienza, cos'è che hai fatto? Cioè, sei rientrato da questi quattro anni? Questa è stata un'esperienza... Pazzesca. Pazzesca, perché poi... Una delle più importanti? Ma quella che mi porto nel cuore. Io se potessi tornerei domani a vivere lì. Cioè, rilasceresti tutto da capo e rifaresti tutto da capo? Sì, sì, sì. Ma come cacchio fai? Perché è un'esperienza di vita che ti cambia. Che tra l'altro sarà il sogno di tutti. È il sogno di tutti. Sì, è il sogno di tutti. Ma è molto così. Sì, sarà figo. Infatti, andiamo. Devi andare, devi andare. C'è gli occhi con gli ucciconi. Sto pensando. Ho anche un caro amico italiano che è lì, se possiamo spoilerarlo, dai. Sì. Davide Biga. E come no? Salve Biga. Davide Biga, di base a Santiago del Cile, c'è tutti i Teneri 700, se vuoi andare. Ma dai, no. E li affitta. E li affitta e ti fa anche da guida. Biga, guida. Così è anche più fattibile, anche più organizzato. Anche perché magari le prime volte che vai sei più organizzato. Se vuoi farla, dici, mi prendo 15 giorni, 18 giorni. Così, sì. C'hai già tutto programmato. Così, in casa. Non farebbe anche l'ora e schiappa così. Può essere, può essere così. Quando gli fai trovare la moto là, l'ora e schiappa, lui è tranquillo. Sì, esatto. Io non avevo niente di programmato. Ho detto, vivo così e poi strada facendo. Mi sono fermato in Bolivia a Santiago de Huata, sul lago Titicaca, 4.000 passametri, a fare volontari una missione. No. Con questo padre Leonardo. E lì poi erano tutte connessioni. Padre Leonardo Giannelli. No. Lo scarico? Gli scarichi Giannelli? Uno della famiglia Giannelli, Arrows, che anziché seguire l'unità familiare, ha fatto... Questo ha fatto 10.000 chilometri per allontanarsi dalle moto, è entrato in seminario, ha fatto seminario e poi è diventato un padre francescano di Gubbio, quindi la zona di Giannelli, e poi è andato, si è trasferito in Sud America, un manico andare in moto. Tanto sono pochi quelli della missione lì. Don Volante si spostava tra le diocesi con... Ma pensate, che figo. E quindi sono stato un po' lì, sono stato in Brasile, su un'isola Boipeba, che è un'isola di nativi, dove c'è turismo brasiliano, e lavoravo in un ristorante, facevo il ciurraschero alla griglia. No, però che forte. È il sogno di tutti. Ma invece, visto che è Sud America, incontri con i narcos, cose strane perché... Ci sono stati... Mi sa che personaggi. ...momenti toccanti. Perché vabbè, la delinquenza c'è in tutto il mondo. Dove l'ho trovata di più? Il Brasile. Il Brasile... Ma sì, il Brasile rischi... C'è talmente un tasso di povertà così alto. Girare in GS. Ti fregano, tentano di rapinarti anche per una bottiglia d'acqua. Oh, cazzo. GS era un po' un... Sì. Poi comunque, era una moda abbastanza nuova. I brasiliani sono tantissimi, hanno una comunità di motociclisti impressionante. Narcos, ho avuto un incontro, mi sono trovato in questo paese di Narcos, di Narcos, di Cossineros. Cossineros. Che sono quelli che li fanno. Cucinano nel... Sì, Team Bio. Se vai a cercare su YouTube la prima ricerca è Team Bio Cocaina. Ok, ottimo. E questa sera, era una sera, arrivavo dall'Equador e dovevo andare a Cali. E a metà strada mi imbatto già nel tramonto. Mi hanno detto di non girare nella Valle del Cauca. Il Valle del Cauca è la zona dei fratelli Rodriguez, lo Sermano Oh, fantastico. Dicono non stare in giro al Calar del Sole, questo e quell'altro. Poi giusto la settimana prima avevano seccato... E non era per le zanzare. Non era per le zanzare. La settimana prima avevano ucciso una troupe televisiva v'Equadoreia perché stavano girando un documentario sui narcotrafficanti, sono stati sequestrati, ammazzati, li hanno chiesto prima a riscato, poi li hanno restituiti. Io ho visto tutto i telegiornali, li hanno restituiti a Quito davanti al Parlamento in Ecuador nei sacchi neri con i tanti saluti del cartello. Oh, cazzo. Quindi mi sono trovato a Team Bio, cerco una posada, arrivo in questa posada, questo mi apre, rimane lì così. Posada posso? Sì, sì, Miguel. Miguel mi dice porta dentro anche la moto, porta dentro la moto in salotto, chiude tutto, tu però non esci. Miguel è sotto sequestro, vengo a una posada, non posso uscire, vabbè, tu stai qua con me, la mangi una grigliatina, beviamo do cervecita, abbiamo avuto 20 di birre. Beviamole. Intanto mi racconta e mi dice che è una zona di Cossineros dove tutti, Cossineros, che chi cucina, sono i chef della cocaina nella foresta. Lui mi dice che il suo bisnonno, il nonno, il papà era una famiglia di stellati. Sarà stato lui sicuramente. Io lo guardavo, non so se era la ventesima birra in latina a 16 sotto zero, perché sai che le mettono e le fanno crescere nel ghiaccio loro. Lo guardavo come diceva, dai, aspetta, raccontarmi le cazzate. Alla fine, a un certo punto, Miguel mi dice, vado via un attimo. Miguel? Mi curi la posada, se arriva qualcuno, la stanza, la dos e la quattro. Vabbè, faccio anche il receptionist, va bene. E passa un'ora, passa un'ora e mezza, passano due ore, due ore e mezza, c'è più Miguel. Che cazzo faccio con la casa di Miguel, senza Miguel? Intanto domani me ne vado. Un po', Miguel torna con un cartone della pizza e io guardo, Miguel, no, sono pieno, non aguanto mas, Miguel, la pizza. Questo, apre il cartone della pizza, il cartone era ricco, pieno, piastrella bianca, tira un'ammazzata col coltello dentro, perché lui ha capito che io non ci stavo credendo. Quindi ha portato le prove. Spacca sta roba. Una questione di orgoglio. Sembrava una scena di Narcos, col coltello, lo tira dentro, pezzi che vanno dappertutto e mi guarda e mi fa benvenuto a Colombia, hermano. No! Le telecamere. E la festa è andata avanti. Basta serpesita. Lì l'ho guardato e faccio Miguel, vado a dormire. Il mattino dopo dovevo ripartire. E Miguel era ancora... No, sono lì, carico la moto, metti tutte le borse, perché ormai diventa un meccanismo tutti i giorni, carichi, scarichi, carichi, sembra il Tetris. e arriva Miguel con una calza arrotolata e gli fa tengo un presente. Gli faccio tirano via il presente che lì poi sono tutti corrotti, ma non per portarlo via il cadeau per l'Italia. Sai le palline quelle di Natale con la neve? Una palla di neve. Gli ho detto Miguel, vai, va. E sono arrivato a Cali da questa famiglia che mi ha ospitato, che è il concessionario, l'officina moto, una delle più storiche della Colombia. Questa moto Asturias, a Cali, è il meccanico anche storico dei fratelli Rodriguez. Una donna. Sì, che lui, un uomo di ormai avrà 70 e passa anni, ha sempre preparato le moto dei fratelli Rodriguez. di noi, mentre eravamo qua tranquilli che ci guardavamo Narcos, quindi ti svelo una chicca, Los Hermanos Rodriguez erano malati di moto, battetissimi di moto. mi ha raccontato questo che quando uscivano i modelli top, che non so, Ducati faceva questo, Harley Davidson faceva quello, le prime uscite, loro lo compravano, andavano in officina, gliela portavano, gliela consegnavano, 24 ore, con i soldi, e dicevano, guarda, deve essere la moto, Jorge, dicevano, Jorge, questa deve essere la moto più veloce in Cali. Fai quello che vuoi. Matt, apriamo uno G-style, Cali Edition. Non so se basta solo essere capace a fare i progetti, però vabbè. Ti sei adattato all'ambiente facilmente o ogni tanto ti sei trovato magari fuori luogo, perché hai quel modo di fare molto easy che si adatta, però come hai fatto lì, in quelle situazioni che adesso parlando che non siamo su Narcos non è facile. Fondamentalmente mi sono sentito più a casa lì che qua. Tu sei pazzo. Ma forse era anche il motivo del perché hai deciso di fare. Ma in generale come stile di vita io mi sono latinizzato. Ho fatto fatica quando sono tornato in Italia. Ho fatto fatica a parlare bene italiano perché sembravo Javier Zanetti. Là parlevi bene spagnolo o brasiliano? Cosa usano? Spagnolo, spagnolo. Tranne che in Brasile che parli portoghese però parli spagnolo ovunque con le varie sfumature, accenti. Però ho perfezionato il mio spagnolo, sono arrivato a parlarlo meglio dell'italiano e quando sono tornato ho fatto fatica. Facevo fatica con il portoghese perché il portoghese mi sta un po'. Cioè ho parlato bene lo spagnolo, bellezza, buongia, buona noi, eccetera. Non ci ho mai preso legato bene. Ci sta, però in quel contesto lì con certi personaggi anche insomma un po' particolari e non... Miguel tipo. Ma sai cos'è? Devi sviluppare una dote visiva e comunicativa del primo sguardo tanto che ti fa la persona sono i primi secondi, cioè non è che ti serve stare insieme a vent'anni. Primi dieci secondi capisci subito se uno che ti vuole... Anche perché sei una preda facile in tante situazioni oppure se trovi uno che ha piacere di conoscerti tipo in Argentina sai che in Argentina sono 60% sono di origine italiana e vedere una moto targata Italia in Argentina vai a far benzina ti arriva quello in macchina eri italiano? Tano ti dicono eri Tano? Sì sono italiano che lindo mio bisahuelo dell'abuelo che vedi che ti faccio ancora il mio abuelo il bisahuelo era del norte d'Italia Sottotitoli alla pagina 777 di Mediavideo e ti dicono mio bisahuelo del norte d'Italia e allora ti dici ah che bueno di donde? De cosenza no le cosenza al nord che è dal sur non al norte no no le cosenza nel norte perché poi sei arrivati là negli anni sì chiaro poi arrivava vedeva cognome bianchi bianci boom no perché poi tanti nomi sono stati latinizzati e c'è questa cultura dove è sempre una festa è sempre una sala grigliata io ho fatto penso un anno e mezzo senza toccare una verdura l'unica volta che ho chiesto ma due verdure grigliate ma guardate la verdura è una comida del por maricone vuole un po' di coca quindi è verdura la verdura ti dico ma no la verdura fa male mangiala quindi carne 1200 sfaccettature che forte e penso che vado in Argentina a casa di uno che mi ospitava mi stava raccontando che stava aprendo questo ristorante in Brasile nord del Brasile e mi dice che faceva fatica a trovare qualcuno di fiducia che lavorasse che gli seguisse al ristorante lo guardo e faccio Daniel te lo seguo io questa fa mi guarda e fa non sarete capace la griglia la mia passione poi ho fatto un buon un buono stage argentino questa fa mi dice ti metto alla prova giorno dopo organizza una grigliata invita 20 persone mi dice vai fenomeno griglia e ce l'hai fatta? ce l'ho fatta mi ha detto vai su segui tu il ristorante poi io arrivo ti do le chiavi e tutto ti pago l'aereo lascio la moto ma che mi paghi l'aereo vado su in moto almeno vedo anche certo il Brasile ma che trip totale sono arrivato lì a nello stato di Bahia quindi siamo già a nord dove c'è Salvador di Bahia ho lasciato la moto io volevo portarla sull'isola però mi hanno detto no sull'isola i nativi poi c'erano ancora macchine pochissime solo quelle di servizio c'era ancora la tradizione degli asinelli con il carretto ok quindi fare la moto lì vabbè il GS è un po' simile mi sembrava un po' uno sgarrone e allora l'ho lasciata da uno che ho conosciuto pomeriggio stesso che sono arrivato lì a Valenza e gli ho lasciato la moto ho presa questa barca due ore di barca e sono sbarcato sull'isola io sono scopo anche perché mi sto facendo un film guardandoti negli occhi in realtà io non vedo la tua faccia vedo le scene vedo le scene che mi stai dicendo e quindi è stata un'avventura un'esperienza di viaggio vissuta come un'esperienza di vita beh pazzesca certo quattro anni ma ogni giorno era e me la son goduta pieno perché poi sai non c'era ancora questa smaglia di tiktok instagram social cioè di viverla la faccia dovevo stare tutti i giorni a taggare ripostare l'ho vissuta come un'esperienza di vita conoscendo persone pazzesche o dormendo ma c'è qualcuno con cui sei ancora in contatto io c'è mi muovo con Michele con Michele no è bello che poi i contatti sono amicizie che possono passare dieci anni e ti rimangono non come qua che magari vai in vacanza ci scambiamo il numero facciamo serata a Milano è classica la distensione tra gli amici estivi e gli amici invernali cioè se tu conosci qualcuno in vacanza anche se abita nella tua stessa vita nella tua stessa via non lo vedrai mai esattamente quindi fai fatica è difficile qua da noi mantenere io ho fatica qua avere degli amici stretti o un nucleo di amici perché poi c'è sempre questa invece tu ti accorgi che dalla parte opposta del pianeta hai gente che in un momento di difficoltà sei di là lo chiami lo chiedi lo trovi io a gennaio dell'anno scorso sono andato lasciando stare la moto voluto provare in fuoristrada due telefonate e anziché prendere a rente la macchina la trovo io da mio amico questo guarda tu a dormire vai di qua vieni a cena da me ti rimangono e chiaramente il trauma del ritorno fatto fatica al ritorno ho fatto una fatica pazzesca stavo impazzendo stavo perché poi c'hai dei ritmi totalmente diversi uno stile di vita molto più lento qua da noi ormai è tutta una frenesia se non fai la roba è questo è quell'altro ma ti è ridato il tempo di quattro anni o sei arrivato alla fine del budget alla fine sono rientrato perché avevo mia mamma che non stava tanto bene tutto non mi sembrava il caso va bene essere responsabile di continuare però è una parentesi tu dici rientro sei rimasto in teoria devo stare qua qualche mese poi tornare là poi mi sono fermato qua perché poi sono nate queste cose con le iene però ho fatto fatica ho fatto fatica con l'italiano a esprimermi che ogni tanto tiravo fuori le cagate atomiche e poi inserirmi nella società nella frenesia sono al semaforo a Milano al semaforo devi essere Verstappen perché appena viene il verde c'hai Alonso che ti suona tu 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 Max Verstappen là invece tanto non si fermano né che sia rosa né che sia verde quindi la logistica stradale se tu vai in alcune città vai a Lima o a La Paz in Perù o a Lima o a La Paz in Bolivia vige la legge della sopravvivenza ci sono degli ingorghi semaforici dove tu in moto ma rischi la vita perché non ti schiacciano ma una volta aperto a portiere addosso perché gli ero troppo vicino sono caduto giù io l'ho morto non me l'ho aspettato ah ma così sì mi sono alzato gli è saltato il vetro però no no ma perché te la è così è così è una logica mi piacerebbe portarti a Lima o a La Paz c'è questa parte in alto di a Luca non piacerebbe venire però a te piacerebbe portarlo ma a lui non piacerebbe venire c'è questo alto piano calcola che La Paz è a 4000 metri ok è la conca di un vulcano quindi si è riempito il catino non c'è più spazio da costruire hanno costruito in alto sull'alto piano a 4000 metri c'è questo se andate a vedere è l'alto è una delle favelas più pericolose al mondo ecco dove puoi comprare qualsiasi cosa c'è un mercato a cielo aperto trovi di tutto tu puoi comprarti un'arma al taser ma tu un souvenir non l'hai preso? no te lo sei in Italia con un bazooka io avevo il mio macete fedele attaccato agli stivali e tu ti trovi in questo traffico io la prima volta sono arrivato in moto lì era proprio rosso verde poi si muovono tutti con questi micro bus che magari qua da noi hanno nove posti da loro ne hanno 72 e non sai dove andare dici vai mi affido al caso ma anche in strada guidano con tutto il loro stile magari tu ti trovi su una due corsia a destra però quello che arriva a sinistra decide che di là c'è casa sua taglia dentro e via gli animali anche con gli animali è come essere tal pacman e GTA è come vivere in GTA cioè tu c'hai gli animali tu stai facendo sta strada nel nulla e dici oh che bello spensierato vento in faccia c'hai il guanaco il guanaco è la famiglia dei lama è quello più piccolino tipo il lama un po' più piccolo un po' più aerodinamico il guanaco è a bordo strada che mangia e ti guarda da lontano tu li vedi che ti guardano immobili tu dici vabbè sta mangiando staranno lì arrivi a 10 metri il guanaco questo lo so anche io anche i cinghiali fanno così non parlare dei cerri fanno così è guanaco un kamikaze però è una questione animale non trovi solo il guanaco il problema dei cani randaggi nelle periferie delle città sudamericane arrivano branchi di cani randaggi che ti si attaccano da tutte le parti guardavo anche l'altro giorno sui social un viaggiatore italiano è stato timbrato mica male dai cani e quindi c'hai tutta questa riflessologia chiamiamola così che ti sviluppa solo che poi torni di qua sei abituato a un altro tipo di vita certo cioè là io là mangio tutte le ore del giorno perché tanto basta che c'hai un bidone della nafta che hai tagliato dove metti una griglia cucina in qualsiasi angolo street food così c'è un calore differente qua c'è tanta frenesia quella frenesia all'inizio mi ha beh di un paese comunque molto più sviluppato e un po' più all'avanguardia mi sentivo come primi mesi ero come un leone in gabbia sembravo prelevato dal serengeti e messo allo zoo safari iniziavo che poi sei tornato nel periodo che iniziavano a girare anche i social iniziavano le prime cose sì è un periodo dove iniziava un po' e mi sono imbattuto come dicevo prima in Matteo è nata questa amicizia spontanea proprio senza interesse proprio un bel legame e lui ha sposato questa mia visione del collegare la moto l'avventura il viaggio la natura i paesaggi e tutto quanto quindi partendo dalla passione delle due ruote che la moto può essere un mezzo di uscita non un risolutivo uno strumento non risolutivo ma di uscita utilizzato per far vivere delle esperienze a chi magari ne ha ne ha più bisogno quindi la passione che si crea collegata alla natura e l'elemento che vi dicevo prima degli estranei che si incontrano lungo il cammino perché a volte è l'estraneo che ti cambia la vita più della famiglia più di quello che è a casa magari ti svegli conosci picco pallo che ti dice guarda io sto partendo per l'Antartide e tu ti ha passione vieni in Antartide con l'MT0 questo è folle l'allineamento di pianeti lo dico sempre Matteo io credo molto in queste cose e questa filosofia l'ho portata ne ho parlato con Matteo e gli ho detto guarda io mi sono imbattuto anche in delle storie da raccontare adesso ve ne racconto una per non allargarmi troppo a casa vostra beh è casa tua occhio dire casa mia occhio io faccio in fretta trasferire dove possiamo grigliare e mi sono imbattuto in alcuni ragazzi speciali diciamo tra cui questa ragazza Marika che qua di Baggio pensano conosciuta per caso in autogrill no vabbè sto male cioè ma quindi è proprio così è un mantra della tua vita la mia vita deve essere ma da sempre era così aspetta ma sì quasi da sempre quasi da sempre quasi da sempre quando faceva il parchè posava i pavimenti deve no deve è proprio una parte del mio DNA ok quindi avere quella parte di un po' di visione di follia di dire voglio fare qualcosa che fa bene a me soprattutto fa bene anche a chi c'è vicino mi nutro sono come un idrovora capito e mi imbatto in questa ragazzina nell'area di servizio io tornavo da un TEDx sai i speech ok ok e mi trovo davanti alla moto questa signora che camminava avanti e indietro al telefono e mi guardava una donna sua 45 con 50 anni io parlo lei parla sembra che stava uno con l'altro chiudo la telefonata chiude subito anche la telefonata mi guarda mi fa ma tu sei Simone faccio sì signora scoppia a piangere poi c'è la gente intorno mi piangeva con una disperata la mia prima risposta intelligente la mia riflessione intelligente guarda signora ma faccio così cagare no per fortuna che era quella intelligente per drammatizzare un altro per drammatizzare signora ma guardata scoppiata a piangere faccio così cagare no 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 mia figlia mia figlia vuole conoscerti mia figlia ha visto il servizio è il sogno della sua vita incontrarti mi fa piacere ma dov'è sua figlia è in macchina non sta bene in macchina non sta bene mi faccio chiudere la moto prendo il casco andiamo alla macchina mentre andavo con lei mi chiedo come si chiama almeno per il nome della figlia è marica però non sta bene non sta bene non sta bene non sta bene arrivo verso la macchina non vedo nessuno sulla macchina ma si chiama ma si chiama sta bene è anche scappata no no è seduta dietro perché non sta bene non mi ha detto i problemi è chiaro si detta così sembrava che avesse la nausea la nausea c'ho la febbre è in macchina va bene vengo a salutarti apro la portiera mi trovo marichina tutta emozionata che con le braccia così perché è una tetraparesi spastico di stonica io guardo la madre e mi faccio ma signora mamma ha detto che non sta bene ma sta bene ma sta bene ci sta mi faccio dove è la sede rotelle nel bagagliaio mi dia la sede rotelle ho preso la sede rotelle l'abbiamo messa sopra gli ho messo il casco in testa eravamo in giro per l'autogrile che forte l'improvvisata pazzesca e mi è venuta spontanea perché non ho reagito guardandolo e dire oh mamma perché uno normale io poi gli ho visto le facce della gente quando sono in giro con lei che la guardano poverina è nata così di sette mesi già così sì sì quanti anni di anni? adesso ne ha fatti 25 ma cazzo non è bene coltano ma è 24 no 24 o 25 c'è un vuoto mentale e parlando così poi ci salutiamo lei mi ha detto guarda faccio il mio compleanno tra un mese ti va di venire ho promesso che andavo sono andato però mi ha detto una frase mi ha detto il sogno della mia vita è quello di vivere un'avventura oh figa l'hai detto Simone Zignone adesso lo fai no bueno no bueno no bueno e io sono salito in moto ho iniziato il viaggio verso casa e mi è partita la testa ah poi in autostrada figurati sai in autostrada vai io poi non uso non mi piace usare radio il telefono il telefono mi faccio proprio i cazzi miei almeno lì e dico perché mi ha detto questa cosa cioè visto io e lei abbiamo un rapporto bellissimo visto come è conciata quindi posso dirlo visto come sei conciata il sogno della tua vita è camminare il sogno della mia vita è essere normale perché è l'avventura perché è l'avventura perché poi è uscito il servizio come capita ti arrivano migliaia il genitore mio figlio fa questo sarebbe perfetto quell'altro mio marito no ma ne arrivavano tantissime però sai nella mia testa già quando c'è una richiesta o quando dicono mio figlio dovrebbe fare un servizio secondo me io mi affido al caso ma lì è nata come è nata tutta la tua storia di vita e per quello è anche il valore quando lei mi ha detto così inizi a ragionarci a ragionarci perché perché e alla fine mi sono incapolito su questa cosa ho detto io voglio scoprire perché mi ha detto questa cosa e dentro di me ho detto non posso promettere di portare non faccio portarla in modo allora mi sono iniziato a documentare ho sentito delle cliniche ortopediche questi qua di Torino istituto Marie de Laide che fanno i sedili per i paraolimpici che fanno le strutture per i cyborg mani bioniche e tutto loro mi dicono dietro a paresi spastico distonica perché io ho pensato il cydeck che era l'inizio chiaro però rimbalza il cydeck la frantumavo perché poi lei non avendo la muscolatura sviluppata ti porti tutto addosso non reagisce molto a controllo e allora la sera in post aperitivo a casa aiuta sempre aiuta sempre ho ancora il disegno ve lo manderò inizio a disegnare quella che poteva essere la seduta allora immagino la mia moto tenere 1200 bella grossa bella grossa io me la metto dietro faccio fare un supporto attacco questo guscio sedile cintura a quattro punti perché devo tenerla eh sì il più ferma possibile poggia testa con questo sistema per tenere il casco perché sennò il peso del casco gli faceva andare giù in una muscolatura quindi madonna ho detto chissà se si può fare e allora ho iniziato a contattare questi qua questi qua delle officine ortopedi che ho tirato in ballo vabbè si può fare il nome MyTech MyTech quelli che fanno le borse laterali mi hanno fatto tutta la struttura perché poi andando dagli ortopedi ci mi hanno detto guarda che lei ha una preclusione delle anche quindi non riesce ad aprire come uno normale che sale da passeggero lei si apre quasi dalle ginocchia a scendere abbiamo tirato su di 10 centimetri c'è una struttura che va sopra oddio ma e come fai scusami sai dove ci sono gli agganci delle borse la struttura sale la piastra unica crea un ponte sopra il sedile sotto il sedile ci passavano quattro dita sopra abbiamo attaccato il sedile che sembra un sedile da formula 1 in carbonio è una struttura pazzesca abitata tutto da un lato poi per non farmi mancare niente borsa laterale e dall'altro lato il porta sedia a rotelle è chiusa quindi peso totale madonna sono un 500 su me con su lei con le borse borsa a serbatoio sedia a rotelle e tutto arriviamo quasi ai 6 quintali madonna le gomme come cazzo 95 io 60 lei tenere 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 col pieno sono due no tenere due e quaranta due e quaranta più il pieno più tutto il resto ma scusami il movimento da giù a su com'è possibile con le sue braccia la prendi dalla sedia a rotelle sotto le ascelle non peserà tantissimo quanto pesi però tu no 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 io non ce la farei quanto pesi tu io 80 80 dobbiamo trovare un 65 chili ecco non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo non è che te no adesso tu mi hai trovato 65 chili tu prova a prendere è come prendere un peso alza un peso morto io faccio meno fatica a prendere faccio meno fatica a prendere lui e metterlo sulla moto perché lei è proprio peso morto e quindi la prendi sotto le ascelle e la tiri su oltre e si anche perché la gamba poi non è che ti aiuta non fa così poi l'appoggio una gamba la butto di là lei non si aiuta con le gambe non fa forza cioè io se ti tiro su questo quindi durante tutti i trasferimenti eccetera per quante volte al giorno calcola quando abbiamo fatto i test quando abbiamo viaggiato abbiamo fatto le prime prove nell'internale milanese poi il viaggio in Sardegna calcola almeno 6 volte al giorno 12 volte ogni tappa pausa vp farla scendere un attimo però in tutto questo non sono mai caduto grande no perché la moto all'inizio era difficile da gestire perché cambiano un po' tutti i pesi più che altro al di là della quantità di peso il fatto che lei era tanto in alto e lei io poi ho scelto la Sardegna vento era in post covid quindi la Sardegna ho detto andiamo in Sardegna che non c'è ancora nessuno poi la regione ci ha dato permesso di fare girare tutto però col vento era come avere una vela sembrava di essere luna rossa e col vento che c'è in Sardegna arrivavo a sera che ero devastato e quindi hai una fatica fisica pazzesca pazzesca e psicologica perché tu io nella mia testa mi sono preso a carico io certo una persona che te lo fa fare ti è capitato di pensarlo per qualche secondo no io non l'ho mai pensato zero quando tanti te lo chiedono ma chi è che te l'ha fatto fare però tu dici voglio scoprire il perché perché ha questo sogno e è stato bello che siamo arrivati l'abbiamo messo anche nel servizio ad Ala dei Sardi sopra fuori Olbia c'è questo alto piano famoso con le paleoliche sono salito da una strada da una mulattiera sono salito sembrava sembrava un pazzo su un carro armato da guerra e arriviamo in alto sento lei erano collegate con l'interfono sento lei che mugugna un po' fa un po' non capivo ma non stai bene ci fermiamo e tiro via il casco e lì ho capito il significato del almeno una volta nella mia vita voglio vivere un'avventura lei mi guarda e mi dice mi sono sentita libera ho provato ho provato questa sensazione di libertà per la prima volta nella mia vita mi sento libera e normale a qualsiasi altra persona ti distrugge una cosa del genere ti prende dentro e capisci fai una riflessione di noi quante volte ci lamentiamo per le stronzate per robe inutili magari non ti va bene qualcosa del lavoro ti cambia la giornata invece poi arrivi a casa la sera e dici guarda questa cosa pazzesco che non molla un colpo era stanca magari sono venuti anche i crampi allora però una costanza e dici è nata di sette mesi e tutta la vita che è qua chiaro che lotta che lotta prova a stare te tre mesi con una gamba in trazione diventi pazzo perché ho fatto un incidente prova a stare vent'anni così e lì è stata per me tutte queste esperienze sono state lezioni di vita che ti aiutano a migliorare quindi torno a prima quando dici gli estranei che incontri lungo il cammino ti cambiano la vita e da lì quando sei rientrato perché poi passiamo sempre agli incontri casuali che fanno accadere le cose nella tua vita da lì archiviato archiviato Marica archiviato uno archiviato Marica dopo ne abbiamo fatto un altro con una ragazza di sesto San Giovanni Camilla che aveva differente sana fisicamente tra virgolette ma con problematiche giovanili quindi sai borderline di polare tutto e le abbiamo sempre fatto vivere un'esperienza diversa di viaggio sempre con la filosofia dell'amico del paesaggio l'abbiamo portato in Slovenia lei sempre con la solita solito mood di fare squadra di farle vivere delle esperienze che vanno al di là dei pensieri che ti nascono tra le quattro mura e adesso dove sei arrivato dopo tutti questi viaggi dopo questa abbiamo fatto una capatina io e Viviani in Ucraina giusto per non farci mancare giusto per non farci mancare niente come uno va il weekend in Liguria voi avete deciso di andare in Ucraina a vedere la tua situazione abbiamo fatto un giro in moto in Ucraina a visitare degli orfanotrofi territorio di guerra siamo entrati in Ucraina in moto sempre in moto siamo partiti da qua il 9 di gennaio non di quest'anno dell'anno scorso fino al confine ucraino in moto siamo entrati in Ucraina in moto siamo tornati un bel giro fresco immagino lo stato d'animo anzi meglio non lo immagino dalle altre volte è stato diverso perché vivi anche entri in un territorio di guerra io le prime volte guardavo per aria poi non ho però conoscendo quello che c'è dall'altra parte dici iniziavi ad essere forse più preoccupato rispetto agli altri sì c'è anche quella sensazione lì poi sai meno male il primo servizio l'ho fatto in Latino America l'altro in Sardegna in Slovenia cambia anche la gente fredda oltretutto la gente fredda poverini perché vivono una situazione così però è anche una situazione paradossale come lei come fa Simone a gestire quella pressione cioè ti viene naturale o hai no mi viene naturale non perché anche tu a questo punto sei così freddo da respingere quelle emozioni controllarle come fai? sono molto emotivo o fai il film tra virgolette davanti alla videocamera se è una cosa no 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 io faccio come mi vedi davanti alla telecamera sono nella vita reale cosa c'è dietro a quegli occhi di Simone Zignoli perché cazzo sono cose potentissime cioè devastano sai c'hai esperienze di vita magari cicatrici di vita che ti porti dietro e che magari ti aiutano anche a superare determinati momenti però fa parte anche un po' del mio carattere quindi ho una filosofia non perché agli occhi della gente uno può sembrare bene ferrista non è frega il cazzo va però invece sono nato così quindi ho un bassissimo senso del pericolo da da miguel è un esempio miguel era un angioletto miguel è il meno dei mari e bassissimo senso del rischio però ho questa attitudine diciamo un po' camaleontica che sono in grado di adattarmi a qualsiasi contesto cioè quasi lo fai come sfida personale tua ogni tanto proprio riesco ad adattarmi mi metti qua sto bene qua con voi mi porti in stazione centrale riesco a scambiare anche quattro chiacchiere con magari il peggio che c'è lì o dove mi metti mi metti sto sono come mi cactus hai anche ispirato sicuramente qualcuno c'è qualcuno che ti ha chiesto di organizzare ma guarda ci sono stati negli anni tanti che mi hanno chiesto sai se posso venire se posso esserti utile però a me fa piacere quando ti scrive ancora qualcuno e mi dice ma io voglio cambiare vita cosa devo fare oggi l'abbiamo detto il consiglio che dai un consiglio il mio consiglio è se vuoi cambiare vita e c'hai questa ovviamente devi fare i conti anche col portafoglio con la vita reale cioè con la parte non di fare non è che ti dico di andare a fare lippi che gira a formentera ci sono ancora ti dico magari fallo senza distinzione di età fallo se te lo senti fallo se è arrivato il momento se la testa te lo dice devi farlo e tu sei la dimostrazione che probabilmente il cambio di vita funziona se e solo se lo prendi di petto vai parti ti faccio un esempio quando ero in Sud America attraverso i social primi che scrivevano su Instagram su Facebook mi ha contattato questo signore Graziano ai tempi aveva 69 anni quando mi ha contattato Bergamasco mi ha iniziato a scriverci così commentava le foto e un giorno mi dice scambiamoci Whatsapp sentiamoci faccio una telefonata Bergamasco bello potente mi dice se non avessi 69 anni il sogno guarda non ho figli non sono sposato sono in pensione prendo una bella pensione il sogno della mia vita sarebbe essere lì con te vieni qua ti aspetto e lui l'ho convinto ha preso la moto ha spedito la moto poi dal suo Facebook ho visto che era un po' filo Ernesto Che Guevara in France ho capito che aveva questa passione verso Che Guevara sai che c'è la storia del C le strade del C gli ho dato appuntamento in un posto della Bolivia e gli ho detto guarda ti porto alla Higuera dove è morto Ernesto Che Guevara e lui il sogno della vita poi l'ho accompagnato è venuto con me l'ho portato in questa missione umanitaria da padre Leonardo e lui tuttora vive in Bolivia nella missione ma pesata vedi allora per sintetizzarla con una frase fatta e banale ma non è mai troppo tardi cioè secondo me la passione è legata alla moto la motocicletta che abbia due ruote tre ruote chi se ne frega senza distinzione di etnia io non sono pro etnie cioè nel senso gli arancioni che non salutano i blu i blu che non salutano i neri i neri che ce l'hanno con i rossi secondo me la passione deve essere proprio legata al viaggio all'avventura quindi due ruote tre ruote se noi ci hanno tre ruote chi se ne frega basta che vada certo e ti deve spingere a conoscere e quindi lungo la strada tu puoi trovare chiunque che ha anche una storia da raccontarti io ho incontrato di quei casi quasi peggio di te ma no io ho incontrato a Ushuaia una coppia gay due designer ma io posso andare a vedere anche uno era un designer top americano che hanno deciso di prendersi un anno sabbatico hanno comprato un tuk tuk uno designer l'altro fotografo hanno comprato un tuk tuk sono partiti dal Canada li ho trovati a Ushuaia e sul tuk tuk il tuk tuk era tutto wrappato con le polaroid loro chi incontrava un altro cammino faceva la foto da polaroid io sono sulla fiancata ma sai ma perché io mi sono fermato su questo rettilineo infinito in Patagonia vedevo sto polverone sto faro giallo che sta arrivando io mi immaginavo già una Ural o un harley sta attempato invece tuk 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 trovi gente che sai cos'è che ho notato a volte soprattutto all'estero ci si fa meno problemi con lo stile di viaggio si cura meno il look si cura meno l'importanza l'importante è viaggiare e scoprire beh poi probabilmente quando si è entrambi quando ci si trova in questa situazione si è tra viaggiatori si è tutti lontani da casa chi trovi trovi è casa tua perché poi fai gruppo acquisisci questa forza questa è la passione la passione del viaggio la passione dell'avventura io sono sconvolto perché sembra quasi una religione oggi in un'oretta abbiamo ascoltato di quelle cose di quelle storie di vita vissuta che c'è gente che pagherebbe per viverne un pezzettino in tutta la vita infatti infatti ma e quindi il Simone del 2024 cosa ha un piano perché adesso voglio sapere dove andrai hai vinto a parlare italiano e se vuoi torno a parlare italiano allora Simone del 2024 ha fatto un passo non so se indietro o in avanti perché a me piacciono un po' le sfide mi metto in testa qualcosa io ho paura perché guarda me mi porto e capito la facciamo la facciamo mi piace un po' la sfida non per fare l'esaltato però mi piace scoprire allora vivendo a Milano io ho detto io non ho mai vissuto la città e ultimamente avete visto tutti le città sono diventate un po' delle giungle complicate un po' complicate e io un background di città complicate che ho visitato ce l'hai c'è un bel elenco Medellin Salvador de Bahia Caracas non è che sono città semplici e vivibili e allora mi sono detto mi piacerebbe con gli occhi dell'uomo della strada con gli occhi del centauro in un momento dove anche a livello social a livello web a livello tv si sostenta sempre il bello delle cose c'è sempre il bello da far vedere io voglio narrare e addentrarmi nel dark side nel lato oscuro della città abbiamo ci abbiamo ragionato sopra e con un altro visionario un po' meno un po' meno pazzo ma visionario che è Giovanni Santarelli di Milano Bella da Dio abbiamo deciso di introdurre questo format legato al dark side della città vista con gli occhi del motociclista del centauro quindi i viaggi continuerò a farli però li tengo come mio piccolo segreto raccontaci un aneddoto di Milano perché per chi magari ma Milano io sto scoprendo delle cose tipo perché siamo tutti di Milano però magari la gente che ci ascolta non è di Milano Milano sto scoprendo delle cose pazzesche c'è una comunità di freestyler che ormai spadroneggia per la città freestyling in che senso con i T-Max che fanno sono andato a visionare con mano in strada fanno quello che vogliono ma fanno delle cose ma c'è anche il quartiere Cosini ma secondo me Milano ci sarà da qualche parte Milano il Miguel di Milano l'hai trovato diciamo che la droga la lasciamo un po' stare la lasciamo stare no la lasciamo stare perché c'è già Vittorio che bravo sta facendo un sacco di cose quindi lasciamo stare il settore droghe però ultimamente noi ci stiamo addentrando un po' con il discorso le baby gang altri tipi di reati che spaventano un po' la città soprattutto sono molto agli onori delle cronache sono quello di cui si parla tanto c'è quello spaventa la città secondo me forse la città non era pronta questa escalation un po' dalla trap un po' di questi ragazzini un escalation da metropoli però non è niente di diverso dalle altre metropoli sì siamo diventati forse più europei che città italiana io vivendo già vivendo queste cose addentrandomi quello che fa male è vedere che magari chi viveva in quella via in quella zona lì che è cresciuto lì a volte non è più padrone di uscire di casa tranquillamente quindi abbiamo deciso di vivere la notte quindi prima giravo di giorno viaggiavo di giorno in Cile in Bolivia adesso mazzico tra Corvetto e Grattosoglio con la moto in notturna e stiamo interagendo non in chiave di inchiesta io non faccio giornalismo vivo da uomo della strada da centauro attempato ci sta e diamo voce anche a questa gente in modo tale che in base a quello puoi creare anche il dibattito e la loro risposta com'è? come l'hai percepita? dipende sempre da chi trovi di fronte cioè ultimamente stiamo realizzando delle cose anche un po' strane sto trattando il tema di questi che fanno anche roof-tuping sono quelli che vanno su grattacieli illegalmente si arrampicano si mettono penzoloni fanno le foto quelli che fanno urbex sotto suolo e non ci abbiamo un po' di tematiche quindi ne vedremo parecchie insomma con Milano Belladio state pronti stay tuned stay tuned che io il buon Giovanni vi sbalordiremo abbiamo deciso appunto di visto che i numeri anche della testata chiamiamola redazionali sono importanti abbiamo deciso di è una sfida vediamo come va come va sfrutto sempre la mia passione per le due ruote ho dovuto iniziare a imparare a guidare bene in città perché è un'altra cosa rispetto al deserto dell'Atacama che è un'altra cosa perché è forse più giungla la città che la giungla quando uscirà il prossimo Grand Theft Auto personaggio sono io a posto di Nico Belich ci sono io perché l'altro giorno in moto non so come ho fatto a non disintegrarmi questo ragazzo con glovo semafori zero tratteremo anche questo siamo sulle strade questo mi interessa molto anche io ne schivo parecchio a volte anche non li schiva a volte marcando perché queste bici elettriche io ho un paio di registrazioni 57 all'ora me la deve spiegare della bici elettrica 57 all'ora però siamo sul pezzo ragazzi che viaggione che abbiamo fatto è una chiacchierata siamo andati via con la testa siamo partiti da qua abbiamo fatto un salto in Sud America siamo risaliti in Sud America siamo tornati in Europa una puntatina in Sardegna scopriamo noi Milano graviviamola riscopriamo incredibile ma poi è vero che ogni volta ti documenti dell'estero viaggi eccetera ma non conosci ogni tanto io ma è sempre così non conosci la tua città io la mia città o anche l'Italia inizio a scoprirla più adesso è che c'è un errore cacchio uno dice sempre vado ma abbiamo talmente posti bellissimi in Italia che bisogna fa bene a viaggiare però a volte dici c'è dietro l'angolo dei posti meravigliosi che puoi viverle in bici puoi viverle in moto puoi viverle in fuoristrada via mare assurdo vabbè io adesso l'ultima domanda diritto come per ogni invitato è cosa suggerisci a chi ci sta guardando o ci sta ascoltando in questo momento per intraprendere un percorso analogo al tuo un po' l'abbiamo detto prima per vivere quell'esperienza un po' matta cosa serve? cosa serve? qual è la ricetta per diventare un Simone Zignoli? non diventate Simone Zignoli è segreta la ricetta è segreta la ricetta è essere sempre se stessi e non cercare di costruire un'immagine patinata in un mondo che non ha più bisogno secondo me di patinature bisogna essere capaci di tornare indietro resettare un po' e tornare alla bellezza della realtà delle cose secondo me ti ha aiutato tantissimo il viaggio senza i social perché guarda io ti ha svoltato io in quegli anni lì pubblicavo su Instagram ma una foto sì ma era un'altra cosa non c'erano ancora le stories forse non ero schiavo adesso senza nulla togliere perché vedo che come fai tu come ci fanno tanti altri c'è chi ha creato la propria professione però secondo me bisogna essere sempre in grado di prendersi i propri spazi all'interno della professione perché se no c'è il rischio che non riesci più a goderti la bellezza la realtà la realtà delle cose e quindi quando io ti dico abbandonare un pelino il patinato non cercare sempre la perfezione la foto che deve essere ma chi se ne frega guardati il tramonto al posto di star lì a fare la foto per provare a farla al posto di provare la foto o il drone che io ho perso i tre di droni perché mi dimenticavo quando li ho introdotti nei viaggi dopo che ho fatto anche con Mediaset e non mi ricordavo che c'era il drone in follo mi sono ricordato dopo un'ora che la batteria durava 24 minuti perché tu magari ti vedi il paesaggio e vai questa è distrazione signor Zignone però sai vabbè redazione media se non penso avesse problemi per traire droni credo non abbia distrutto il panciato delle iene però secondo me il segreto deve essere un po' quello perché ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di viaggiare di scoprire però il mio consiglio è parti con un viaggio e vedi come va e dopo sei sempre in tempo dopo per crearti qualcosa non partire con un pdf mandato all'azienda a pinco pallo per tentare di per tentare di tu prova lo stesso a portare a casa quel viaggio non è necessario avere adesso mi odieranno magari le aziende che fanno abbigliamento o non è necessario avere l'ultimo casco di grido certo o l'abbigliamento high tech puoi farlo anche col ciao col si col booster io andrei a fare un viaggio in Tunisia col booster no però per dire secondo me bisogna essere in grado di tornare un po' indietro per dopo andare avanti lì si che ti metti alla prova ragazzi cioè di non sai non creare aspettativa che dopo sei sempre dipendente da delle aspettative si si tu prendi e vai prendi e vai io sono partito non ho chiesto niente a nessuno poi strada facendo poi costruisci poi avevo le borse di my tech quando mi sono schiantato io ho fatto una delle prime borse laterali della storia in legno me la sono costruita in legno poi buon buon Daniele rovido di maite come hai detto ascolta che te la spedisco una a Santiago va bene Simo intanto ti ringrazio io aspetto il libro se vuoi scrivere un libro lo leggo libro a 50 anni a 50 anni scrivo il libro vabbè allora è il tempo ho tempo ancora due anni ho svelato l'età ho tempo ancora due anni e mezzo tanta roba grazie Simo per essere passato grazie a tutti e viva Miguel ciao ragazzi ciao